Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale. Oggi la dedichiamo all'atavico problema che riguarda il porto rifugio di Gela. A giorni sarà promossa una manifestazione pacifica di protesta al fine di sottolineare l'incapacità politica. L'iniziativa porta la firma del Comitato del Porto del Golfo. Vediamo. La tavica vicenda del porto di Gela è diventata argomento di campagna elettorale per i politici e i consiglieri comunali. Ogni giorno vengono redatti comunicati da chi siete tra gli scranni della Sise Civica, anche se gli stessi consiglieri non hanno mai partecipato alle riunioni nei vari tavoli istituzionali. E' quanto sottolinea in una nota il Comitato del Porto del Golfo di Gela, preseduto da Massimo Livoti. Gli stessi consiglieri, si legge, cercano di difendere l'indifendibile. Se abbiamo un porto insabbiato e chiuso, rimarca di voti, la colpa è solo della politica. Perché questa classe politica è solo brava a redigere comunicati e a fare surfi. Per il resto nulla. Non ha mai alzato la voce all'indirizzo della regione siciliana, ritenuta dal Comitato, il vero responsabile di quanto accade. Forse perché non ama la propria città. Intenzione del Comitato è quella di organizzare, appresto, assieme a tutte le rappresentanze dei comitati cittadini e ai rappresentanti di categoria, una manifestazione pacifica per protestare contro questa classe politica e amministrativa. Invece di remare tutti nella stessa direzione, sottolinea Livoti, ognuno di loro cerca il proprio spazio per farsi pubblicità o per farsi bello con la regione Sicilia. Sicuramente non operano per il bene dei cittadini e questo crea malessere all'economia della città e non crea possibilità di sviluppo nel territorio. La politica dovrebbe portare avanti l'accordo istituzionale siglato a Palermo il 27 settembre scorso tra regione, Eni e Comune. In quell'occasione si mise Nero Subbianco per l'avvio dei lavori di ripristino del porto rifugio. Siamo alla fine di febbraio e ancora nulla è accaduto. Questa classe politica non vuole attuarlo o vuole solo far spendere nuovamente soldi pubblici inutilmente per l'escavazione solo del canale che non porterà ad una risoluzione definitiva dell'insebbiamento del porto di Gela? Sono i quesiti posti dal Comitato. Si chiede un porto fruibile ed è per questo, come dicevamo, che a presto sarà promossa una manifestazione per sottolineare l'incapacità politica. Vigilare sul percorso legislativo che vedrà il Governo regionale e vari assessorati, famiglie e agricoltura percorrere la via della stabilizzazione. Su questo punteranno Flai Cigelle e lavoratori precari del Consorzio di Bonifica. La legge della vicenda si è discusso durante un'assemblea che si svolta nella sede della Cigelle di Gela per dibattere del rifinanziamento delle attività che da più di vent'anni vede decine di lavoratori nella manutenzione degli invasi e della rete irrigua. Presenti all'assemblea il segretario generale della Flai Cigelle Sicilia Alfio Mannino, il segretario generale provinciale Peppe Randazzo, il responsabile Cigelle di Niscemi Pino Pardo ed il segretario generale della Cigelle di Calzani Setta Ignazio Giudice. L'assemblea ha visto anche la partecipazione delle RSA Bartolo Di Dio e Antonio Pizzardi. Durante l'incontro i vertici della Flai Cigelle e della Confederazione hanno affrontato il tema che interessa la proposta referendaria proposta dal sindacato al fine di abrogare i voucher e ottenere la responsabilità in solido per i lavoratori in appalto e subappalto. Al Comune di Gela è stato prorogato il termine ultimo fissato per richiedere l'accesso al servizio di trasporto speciale per diversamente abili, lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela. Abbiamo adottato questa decisione, ha detto l'assessore, perché nelle prossime ore incontreremo le associazioni coinvolte in un confronto chiarificatore per sciogliere le ultime perplessità mosse dalle parti sociali, sempre nell'ottica di una maggiore attenzione mai negata nei loro confronti. Adesso apriamo la pagina della cronaca giudiziaria riferendovi di tre arresti eseguiti dai carabinieri a Gela. Rubano tre quintali di legna da un appezzamento di terreno, ma vengono scoperti e arrestati dai carabinieri di Gela. Le manette sono scattate ai polsi di Emanuele Rocco Argenti, 36 anni, Giuseppe Salvatore Palumbo, 31, e di Ionel Burlacu, cittadino rumeno di 50 anni, tutti disoccupati e a volte conosciuti alle forze dell'ordine. L'episodio si è registrato ieri sera. I militari dell'arma, durante i quotidiani servizi perlustrativi sul territorio per la prevenzione e la repressione dei reati contro il patrimonio, svolti nelle campagne gelesi, hanno sorpreso i tre intenti a tagliare della legna e a caricarla su di un autocarro all'interno di una proprietà privata. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha interrotto l'azione malavitosa. Condotti in caserma per gli accertamenti, Argenti, Palumbo e Burlacu sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso. Adesso sono a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo. La legna è stata restituita al legittimo proprietario. Sequestrata la motosega utilizzata dal terzetto, l'attività preventiva svolta dall'arma e dalle altre forze di polizia sul territorio, si legge in una nota del reparto territoriale di Gela, grazie all'immediato intervento e in sinergicazione con la collaborazione della cittadinanza, ha consentito di interrompere l'azione criminosa sul nascere, garantendo ancora una volta la sicurezza collettiva. Con costanza ed incisività prosegue il controllo del territorio da parte dei carabinieri. E a Caltanissetta, sempre i carabinieri, in esecuzione di un provvedimento della Procura della Repubblica Nissena, hanno arrestato Antonino Gelsomino, operatore sanitario di 60 anni di San Cataldo. L'uomo dovrà scontare in carcere la condanna di 5 anni e 10 mesi di reclusione per il cumulo di varie condanne per i reati commessi dal 1998 in poi, di cui due per il reato di ricettazione. Cambiamo argomento, gran finale oggi per il Carnevale di Gela. Questa mattina le scolalesche della città hanno sfilato e nel centro storico il corteo colorato ed animato da musica e mascotte dei cartoon è confluito in Piazza Umberto I dove il divertimento dei più piccoli è culminato con le ultime danze della giornata. Varie le coreografie proposte dalle scuole dai temi storici alle ambientazioni geografiche. Tra la folla era presente anche il sindaco Domenico Messinese e quasi tutta la giunta municipale con gli assessori Rocco d'Arma, Licia Bela e Flavio Di Francesco oltre a numerosi consiglieri comunali reduci dall'ultima seduta consigliare di questa mattina. Il martedì grasso nell'ambito della cremessa promossa dal comune di Gela proseguirà nel pomeriggio dalle 16.30. In Piazza Umberto I saranno allestiti i giochi giganti del festival distribuiti gadget. Si darà la passeggiata con mascotte cartoons dalle 18 sul lato ovest della Chiesa Madre. Infine andrà in scena uno spettacolo musicale con la realizzazione di maschere e costumi estemporanei e l'esibizione artistica dei ragazzi dello Sprar di Gela. Il club per l'UNESCO di Gela in collaborazione con il Museo archeologico regionale e con i giovani dell'Interact promuove con il patrocinio del comune una giornata ecologica alle mura Timuleontè di Cavosoprano nel corso della quale verranno coinvolti i soci, imprese private, volontarie ed alunni in rappresentanza delle scuole. Appuntamento previsto per sabato 4 marzo dalle 9 alle 13. Per l'occasione si trarrà l'intervento di pulizia dalle erbe e piante invasive del sito archeologico delle Mura grazie alle prestazioni gratuite di volontariato di imprese che cureranno l'intervento con propri mezzi meccanici e attrezzature. Anche Caltanissetta entra nella rete di Telestroc riabilitativo, ovvero un sistema di riabilitazione post ictus che vede come centro pilota hub rappresentativo l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Bonino Puleio di Messina, centro di alta specializzazione in Sicilia nell'ambito della prevenzione, del recupero e trattamento delle gravi neurolesioni acquisite. Un sistema presentato alla divisione di neurologia dell'ospedale Sant'Elia che permette di seguire a distanza, ma in tempo reale, la riabilitazione motoria del paziente. È un grosso salto di qualità nell'assistenza nei pazienti con ictus che ci consente di lavorare molto per ridurre al minimo quello che è il danno che consegue un ictus celebrato. Nel momento in cui noi salviamo il paziente, dobbiamo lavorare affinché la sua disabilità sia la minore possibile. I nuovi protocolli della letteratura scientifica internazionale ci dicono di iniziare subito. Infatti siamo in condizioni e sul letto del paziente, portando in questa stanza che noi abbiamo adibito con il cosiddetto Telespoc, ci consente di iniziare dei percorsi di abilitativi in acuto. E questa è la novità fondamentale. Cioè mettere le condizioni affinché il paziente, quando lo dimetteremo, avendo questo raggiunto la sua stabilità clinica, può entrare nei percorsi della neuro-riabilitazione tradizionale. La cosa importante è che in questo momento noi entriamo in rete con la Fondazione Bonino Puleo e con altri 500 di neuro-riabilitazione in Sicilia che rappresentano l'eccellenza. Questo consente il valore aggiunto della rete Stroc che abbiamo realizzato, AB, all'interno della nostra provincia, della nostra azienda. Per l'occasione è stato illustrato il funzionamento della piattaforma utilizzata per il sistema di tele-riabilitazione su un paziente di 57 anni colpito sabato sera da un ictus. Oggi già il paziente è in condizione di essere sottoposto ad una riabilitazione neurologica in Bostaguzzi e di elevatissima qualità. Successivamente avremo anche all'ospedale Santeria e all'ospedale di Gela anche la possibilità di avere una riabilitazione robotica per quei pazienti ancora più gravi che avranno delle necessità riabilitative particolari e questo sempre in collaborazione con il Bonino Puleo. I degredi legislativi e la nuova mobilità è il tema che sarà trattato sabato 4 marzo prossimo dalle 15 alle 17 a Gela presso la sede di Confintesa in via Reganati 35. L'evento organizzato da Confintesa Scuola sarà l'occasione per chiarire dubbi e argomentare su come verranno applicate le disposizioni introdotte dalla legge 107-15 in questa delicata fase di passaggio in concomitanza con il via libera alle deleghe da parte del Ministero all'Istruzione. Si tratta di una serie di novità che nei prossimi mesi apporteranno significativi cambiamenti al settore scolastico. Durante il seminario di studio verranno illustrate anche le novità relative alla nuova mobilità professionale del personale scolastico. Interverranno sul tema Bartolo Pavone, segretario generale Confintesa Scuola, Adele Sammarro, segretario generale aggiunto Confintesa Scuola ed il segretario generale Confintesa Nazionale Francesco Brudenzano. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Riccoci, seconda parte del telegiornale, si terrà il 9 marzo prossimo verso la sala Don Pino Puglisi di via Ossidiana a Gela l'incontro dal titolo Training Autogeno organizzato dall'Associazione Diabetici Eschilo presieduta da Giuseppe Curatolo. L'appuntamento previsto per le 17.30 è inserito nel progetto volontariato in cammino con il sostegno della Fondazione con il Sud che prevede una collaborazione con le associazioni del territorio. L'incontro sarà tenuto dalla psicologa Nuccia Morselli. E ora apriamo la pagina dello sport. Calcio, il Gela recrimina sull'arbitraggio di domenica ma pensa già alla gara con la frattese. La sconfitta subita domenica a Palmi ha fatto infuriare non poco l'entourage del Gela perché, lo dicevamo ieri, si può perdere una partita, fa parte del gioco ma quando devi subire anche decisioni arbitrali cervellotiche si perde la pazienza. Al team gelese, soprattutto, non è andato giù il gol regolarissimo del 3-3 realizzato da Campanaro e non concesso dal direttore di gara per uno fuorigioco che le immagini hanno evidenziato non esistere. Sarebbe stata, è chiaro, un'altra partita. Ed invece la rete è annullata e sconfitta sul groppone. Abbiamo fatto una grande partita contro una gran bella squadra abbiamo controbattuto colpo sul colpo uscire con gli applausi e con i complimenti della squadra avversaria fa piacere ed è quello che noi dobbiamo continuare a fare fino alla fine del campionato. È chiaro, non c'è dubbio che purtroppo ci siamo ancora una volta dico ancora una volta perché non è la prima volta che ci succede imbattuti in decisioni arbitrali sicuramente discutibili che ci hanno penalizzato. Però fa parte del gioco, è inutile stare qui a recriminare. Tu mi parlavi del gol annullato del pareggio per un fuorigioco assolutamente inesistente ma io potrei anche dirti che il rigore concesso alla Palmese del 3-2 è stato proprio un regalo clamoroso che l'arbitro ha concesso alla Palmese. Ilogera è in classifica sempre in piena zona playoff ma le inseguitrici non demordono. Non è sicuramente una partita che pregiudica il nostro campionato sappiamo della difficoltà del campionato e sappiamo per certo che questo campionato in tutte le sue componenti sia nella promozione, playoff e playout si deciderà l'ultima domenica. Noi pertanto, ripeto, abbiamo la consapevolezza e la grande voglia di continuare a fare quello che stiamo facendo non abbiamo sicuramente a causa di una sconfitta non molliamo o facciamo drammi nulla è perduto siamo in piena zona playoff siamo al quarto posto e nonostante la sconfitta ci sono squadre che stanno ancora dietro di noi. Domenica si ritorna a giocare dinanzi al pubblico amico Saite e compagni ospiteranno la frattese all'andata finì 5 a 2 per i campani adesso è arrivato il momento di vendicare sportivamente parlando quella sconfitta pesantissima. Domenica 5 marzo Gela ospiterà la seconda prova di Coppa Sicilia di Mountain Bike ad organizzare il raduno e l'associazione Bike Team Gela presieduta da Peppe Abela Peppe Caffà e Francesco Di Giacomo appuntamento alle 9.30 presenta al Parco Comunelli la gara valida per il campionato regionale della Federazione Ciclistica Italiana riguarderà la specialità cross country quella di Gela è una tappa valida all'interno del campionato regionale che comprende 9 tappe il circuito 4,5 km di puro sterrato e ostacoli da superare è promosso nel rispetto delle norme attuative per fuoristrada 2017 e dovrà essere ripetuto più volte dall'attreta in base alla categoria di appartenenza Lo scorso fine settimana alle pala per Ricone di Ostia le finali nazionali del campionato italiano Signores di Pesi un altro successo per il nisseno Mirko Scarantino che ha conquistato il suo quinto titolo italiano consecutivo gareggiando nella 62 kg invece che nei suoi 56 dopo il successo europeo di Rio 2016 l'atleta 22enne ha sollevato 122 kg di strappo in terza prova peraltro come primato personale e 148 di slancio totale 270 una vittoria prima di un'altra importante tappa per l'atleta delle fiamme gialle gli europei che si svolgeranno ad aprile in Croazia per la categoria 85 kg primo il campione europeo e vice campione mondiale Juniors Nino Pizzolato nonostante un infortunio al ginocchio con 158 di strappo 190 di slancio per un totale di 348 trionfo nella 56 kg per il sardo Giuseppe Secchi con un totale di 204 Matteo Curcuruto per la categoria 94 kg per la categoria femminile dei 69 kg Giorgia Bordignon sesta a Rio ha trionfato con 94 di strappo 121 di slancio per un totale di 215 Alessandra Pagliaro per la 48 kg Giorgia Russo nella 53 e Jennifer Lombardo nella 58 kg e ancora nella 75 Carlotta Brunelli con 113 kg sollevati e uno strappo di 96 mentre la salentina Anna Chiara Cataldo si è giudicata a tre ori nella categoria più 75 Il parco di Montelungo a Gela ospiterà il prossimo 24 marzo dalle 9.30 all'ottavo cross di primavera Blue Run si tratta di un appuntamento al fine di promuovere la valorizzazione la conoscenza e la fruizione del parco l'iniziativa è della soluzione Green Sport Promotion di Giuseppe Veletti durante la manifestazione si darà anche la giornata di condivisione dell'autismo aperta a tutti gli alunni delle scuole gelesi insegnanti e genitori in occasione della partita Italia-Albania prevista per venerdì 24 marzo allo stadio Barbera di Palermo e valida per le qualificazioni mondiali l'Enigroup Gela organizzerà trasferta in pullman per il capoluogo isolano le prenotazioni possono essere effettuate fino al 16 marzo per informazioni c'è un numero telefonico 0933 937 437 da giovedì 2 marzo parliamo di cinema all'antidoto di Macchitella a Gela sarà proiettato il film L'ora legale con Ficarra e Picone sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 e al teatro comunale Eschilo sabato 4 marzo sarà di scena Pippo Battavina in l'eredità dello zio canonico appuntamento alle 17.15 per gli abbonati del turno B e alle 21.15 per quelli del turno A i biglietti hanno un costo di 12 euro per informazioni 0933 91 18 92 e 345 58 80 580 abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni e per averci